Purtroppo, sì, una volta avuto accesso ai locali scolastici abbiamo potuto constatare che l'ambiente era stato rovinato. Era rovinato soprattutto in termini di aule, sono state danneggiate tutte le attrezzature e apparecchiature elettriche ed elettroniche, parliamo quindi di computer da aula, pc da aula, oppure motorstouch, lim, proiettori, fotocopiatrici, tutto ciò che era possibile rovinare. Atto vandalico all'Istituto Omnicomprensivo Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano, siamo nella Valtiberina Aretina, i danni si aggirerebbero intorno ai 50.000 euro. I vandali si sono introdotti durante la notte passando da una finestra all'interno dell'Istituto e hanno mandato in frantumi le lim, le lavagne interattive, le fotocopiatrici e altra strumentazione. Al momento del tentativo di intrusione in una stanza dove erano custodite le chiavi dei laboratori è scattato l'allarme che li ha messi in fuga. Sottolineo da subito la vicinanza degli enti, l'ufficio scolastico provinciale, il dottor Curto lo mi ha subito chiamato in mattinata, dal sindaco di Pieve Santo Stefano, abbiamo avuto contatti anche con la provincia, proprio a testimonianza che l'ente che lo Stato in tutte le sue forme è presente. L'amarezza per il gesto assolutamente è da condannare, non è assolutamente ammissibile né tanto meno giustificabile. L'importante è che non si facciano e lasciano passare determinati atteggiamenti, atti come espressione di un disagio giovanile o forma di contestazione, perché sono tutt'altro. Oggi i ragazzi non hanno potuto fare lezioni all'interno delle aule, alcuni sono stati ospitati in palestra, altri hanno fatto lezioni all'aperto. Chi ha danneggiato gli strumenti ha lasciato anche tracce di sangue, le indagini sono condotte dai carabinieri di Sansepolcro.